Macula sono solo da preso, sono già aperti, devi spulciarli dentro, guarda, guarda Macula, guarda, guarda eh, vedi che è aperto, è aperto, guarda, è aperto, vedi, è aperto e lo spulci così, che feritina che c'hai, poi anche questo, vedi, è aperto, dai, vediamo di sistemare quella cosa che c'è lì, ok, vedi così si fa, devi farlo anche tu, bellissimo, adesso vedo di pulirti con la roba lì, nemmeno.